Io ho uno stabilimento di pasta e faccio la pasta tre filetti e l'avendo in scatolata pasta tre filetti la faccio pagare... Quella è la pasta tre filetti, è un'altra cosa No, ho detto tre filetti perché è chiaro che... A che cosa siamo là? Tre filetti, si può anche fare il gioco di parole Poi faccio la pasta, sempre tre filetti fa la pasta e fa un'altra scatola che si chiama, posso chiamarti Mariano Bella E allora, la pasta tre filetti con cui ci faccio gli investimenti in pubblicità eccetera eccetera la vendo a un prezzo La stessa pasta, in scatolata in un altro modo ed è la denuncia del cittadino che è vaccinato e la veniva al 30-40% di meno Applauso spontaneo Questa è la cosa vera Chi è che appalbe? Matteo appalbe perché è stato lui a innescare Era questo il discorso Certo che era questo il discorso Allora, a parte che non vediamo l'ora di provare la pasta tre filetti Però Allora, a parte che non vediamo l'ora di provare la pasta tre filetti